La storica rivista della Regione Piemonte, Notizie, spegne 40 candeline. Per l'occasione il Consiglio regionale organizza una mostra fotografica, 40 anni di notizie, allestita nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 14 aprile. L'esposizione, che si compone di nove pannelli, racconta due storie parallele, quella dell'evoluzione grafica e contenutistica del giornale attraverso le sue copertine e quella politica dell'istituzione, illustrata da numerose foto inerenti i principali avvenimenti vissuti dal Consiglio e dall'Aggiunta regionale in questi 40 anni. Un documento storico in immagini, quindi, che ripercorre la vita dell'ente regionale, dei suoi protagonisti e di chi ha lavorato per offrire una comunicazione esaustiva della sua attività al servizio dei cittadini piemontesi. L'ingresso alla mostra è gratuito, con i seguenti orari, lunedì venerdì 10.18, sabato 10.12.30.